Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Coniglio, presidente del Panathlon di Mestre e queste sono le medaglie delle precedenti partecipazioni alle VM10. Non potevo perdermi naturalmente quella di quest'anno, così unica. L'ho appena terminata, 5 minuti fa, e volevo dire grazie a Piero Rosa Salva, Stefano Fornasierri, i creatori di Venice Marathon e gli ideatori di questa bellissima nuova edizione, tra virgolette, virtuale. È un segno, è un segno di speranza. Sicuramente noi batteremo questo momento, batteremo questo virus e torneremo al prossimo anno a correre tutti insieme, in 10.000, 20.000 quanti saremo. Quindi auguri a tutti e viva lo sport, viva Venice Marathon e viva i runner!